Lei, rileghi il verbale. Sì, signore. Quattro, tre, due, no. Uno, tre. No, due viene dopo uno. Legga, legga. Cosa aspetta? Sa, si scrive. Caro professore, caro professore, il suo sogno, cioè il nostro sogno o il vostro sogno, punto. Che sogno, che sogno? Freddo nordico, caro professore, freddo sano che snebbia il cervello. E si trova il cipollino che qui potete ammirare. Sette operai, ma neanche per sogno. Ne avrete settecento o settecentomila avanti Cristo. Eh, sì. Approviamo? Tanto, siamo in guerra, bisogna ballare. Tanto più che deve arrivare la sua eccellenza. Il dado. Il dado. Vedi, attengo. È una mia annotazione? Il dado. Mi è sfuggita una parola. Le vestigia dell'antica civiltà e l'ampia sedra marmorea non disgiunta dallo spettacolo delle abitazioni periferiche sarà la degna cornice. Verbalizzila approvato e stia lì. Così. Il crisma dell'ufficiale sta per arrivare in alto loco. Eh, eh, eh. Sono centosettantacinque milioni. Fa occhio e croce così e le contravvenzioni che, sa, tirano su in modo che... colonnello, cosa fanno i suoi militi in generale? Generale. Dormono, colonnello. Basta. All'ospedale aspettano le coperte. Eh, e le fogne puzzano. E le pietre parlano il linguaggio dei secoli. D'inverno la puzza si sente di meno. E poi non è all'ordine del giorno. Le case periferiche non sono mai all'ordine del giorno. Basta. Lei è un deficiente. Non ha capito nulla. Fuori. Ma... Fuori. È interessante il segno. Fuori. Si sbrighi. Faccia presto. Esca dall'aula. Ma vada il diavolo. Fuori.